Ieri ha guidato la delegazione abruzzese che si è confrontata con il ministro Matteoli, sindaco Luigi Albore Mascia, ci sono novità importanti sia per quanto riguarda l'emergenza a Porto che per quanto riguarda il futuro sviluppo di questa infrastruttura. Sì, è stato un incontro proficuo al contrario di quanto leggo oggi su alcuni organi di stampa che danno informazioni inesatte. Tanto un incontro al quale io ho voluto partecipasse anche il capo dell'opposizione al comune di Pescara, cosa molto insolita e comunque esempio di condivisione di un problema così ampio. Voglio anche sottolineare che abbiamo incontrato ieri, abbiamo incontrato il numero uno del ministero delle infrastrutture, cioè l'ingegneri in calza che è il punto di riferimento assoluto del ministro Matteoli. Cosa abbiamo chiesto all'ingegneri in calza, al direttore generale del ministero delle infrastrutture? Tre questioni, la questione emergenza, quella del dragaggio attuale, quello in corso, l'impiego migliore di quanto si sia fatto ora attraverso analisi che oggettivamente ci dicano che cosa c'è in fondo al nostro fiume e in fondo alla nostra darsena rispetto alla risorsa di 2 milioni di euro che la regione ha messo a disposizione. Affrontare la questione relativa alla vasca di colmata e quindi creare lì una sorta di contenitore sgomberandolo da quelle che sono le sostanze attualmente contenute nella vasca di colmata e la questione forse centrale, non in sovrordine rispetto all'emergenza dragaggio ma comunque centrale che è quella di individuare risorse che possano permetterci interventi strutturali e quindi avere una prospettiva di sviluppo del nostro porto che non sia legata al dragaggio annuale o che il dragaggio diventi un fatto rutinario ma molto più ridimensionato rispetto alla situazione attuale.